È una generosità senza fine quella a cui si sta assistendo nei locali di Vianicoli della Croce d'Oro di Prato. L'associazione infatti ormai da giorni è letteralmente riempita di donazioni per i profughi ucraini e per chi è rimasto nel paese per contrastare l'invasione russa. A collaborare con la Croce d'Oro anche l'Associazione Nazionale Polizia di Stato e l'Associazione Amata Africa. Il primo carico di aiuti è già partito, martedì partiranno altri sei furgoni anche grazie all'aiuto della Nolcar e per fine mese si cercherà di fare partire verso il confine fra Polonia e Ucraina anche il terzo camion. A collaborare sono state tutte le sezioni della Croce d'Oro, Marisetti e Montemurlo comprese e anche l'Istituto Comprensivo Nord. Una raccolta anche più grande di quelle che si prevedeva. Tante persone hanno portato tutto, da coperte, pannolini, pannoloni, giacche, giacconi, hanno portato di tutto. Un ringraziamento particolare a tutta la cittadinanza che ha veramente risposto in maniera egregia a tutti i volontari che da giorni stanno sbistando tutto il materiale e a coloro che si prende all'impegno di andare a fare 4.000 km per andare a portare e ritornare poi in Croce d'Oro. Quindi grazie a tutti. Fondamentale è stato l'aiuto dei volontari delle tre associazioni che si sono immediatamente mobilitati per suddividere e organizzare negli scatoloni i vari generi alimentari, beni di prima necessità, coperte e giubbotti. La cittadinanza ha risposto molto bene alla richiesta di aiuto per l'Ucraina. Abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo smistato tutta la roba. E' stata veramente una grande prova di solidarietà per la popolazione pratese per questo evento. Non c'è stato nemmeno bisogno di chiedere l'aiuto dei volontari, si sono mobilitati in tanti? Sì, appena è stato messo l'ordine di servizio che c'era da sistemare la roba, tutti i volontari sono resi disponibili anche fino alle due o tre la notte, quindi è stata una bella prova per tutti.